Bella raga, benvenuti in questo nuovo video su Electronic e CNC Lab. Un caloroso benvenuto a tutti i nuovi iscritti e grazie per il vostro supporto. Se siete qui per la prima volta vi invito a iscrivervi per non perdervi altri contenuti interessanti. Oggi inauguriamo una nuova rubrica chiamata Dalla Cina con Furore, dove esploreremo prodotti elettronici a basso costo ma dalle funzioni incredibilmente utili. Nel video di oggi vi presenterò un modulo DC-DC Step Up e Step Down che ho trovato su Amazon a soli 9€. Questo piccolo gioiellino promette di essere versatile e utile in diversi contesti, quindi vedremo insieme il suo principio di funzionamento e lo testeremo nel mio laboratorio. Pronti? Iniziamo! Dovete sapere che questo piccolo modulino Switching DC-DC Step Up e Step Down è un convertitore che regola la tensione di uscita in modo da poter sia aumentare Step Up che ridurre Step Down la tensione rispetto a quella di ingresso. I componenti chiave di questi regolatori di tensione sono tre. L'induttore che immagazzina energia sotto forma di campo magnetico, il MOSFET che agisce come interruttore per gestire i cicli di carica e scarica e i potenziometri che permettono la regolazione fine di tensione e corrente. Questo tipo di modulo permette una regolazione efficiente della tensione senza dissipare energia sotto forma di calore, come avviene invece negli alimentatori lineari. Gli alimentatori lineari regolano la tensione riducendola attraverso la dissipazione di calore. Questo li rende bene efficienti, soprattutto con grandi differenze tra tensione d'ingresso e uscita. Invece i moduli di CDC, sia gli Step Up che gli Step Down, convertono la tensione senza spreco di energia, accumulando e rilasciando energia in modo efficiente. Vediamo adesso le specifiche tecniche di questo modulo. La tensione d'ingresso, ovvero questo modulo accetta una tensione d'ingresso compresa tra 5,5 e 30V, il che lo rende compatibile con molti alimentatori, come quelli dei laptop, vecchie stampanti, scanner o anche delle batterie. La tensione di uscita invece è regolabile da 0,5V a 30V e permette di ottenere sia tensioni inferiori che superiori rispetto a quella di ingresso, rendendolo adatto a numerose applicazioni. Poi c'è la corrente massima. Questo modulo può erogare fino a 3A in modo continuo, con un limite di potenza di 35W. È importante notare che la potenza dipende sia dalla tensione che dalla corrente, quindi bisogna bilanciare bene i valori per non superare il limite. Questo modulo dispone di due potenziometri per regolare la tensione e le correnti di uscita. Questo ti permette di adattare l'uscita alle esigenze del tuo progetto. Inoltre c'è un display LCD che mostra in tempo reale sia la tensione che il corrente in ingresso e in uscita. Questo rende molto facile monitorare e verificare le regolazioni mentre lavori. Poi include delle protezioni contro la tensione di ingresso troppo bassa e i cortocircuiti che garantiscono un uso sicuro anche in applicazioni più delicate. Il modulo di CDC Step Up e Step Down è estremamente versatile e può essere utilizzato in vari contesti pratici nel laboratorio di un'ubbista. Per esempio puoi trasformare dei vecchi elementatori di laptop, stampanti, scanner o anche delle batterie con delle tensioni fisse in alimentatori da banco regolabili. Basta collegare l'alimentatore al modulo per ottenere una tensione di uscita variabile tra 0,5 e 30 V. Inoltre può essere anche utilizzato per creare un caricamatterie regolabile tipo per le batterie al litio, al nickel o al piombo. La possibilità di regolare sia la tensione che la corrente lo rende il modulo perfetto per caricare in modo sicuro vari tipi di batterie. Ora passiamo alla parte più interessante, il test pratico del modulo di CDC. Allora, vediamo il setup del test. Come alimentazione abbiamo un alimentatore di un vecchio laptop, quindi una tensione di uscita da 19 V e una corrente massima di 4 A. Come carico userò il mio carico elettronico personalizzato di cui ho parlato in un video precedente per simulare diversi scenari di assorbimento di corrente. Per verificare la precisione della tensione di uscita utilizzerò il mio multimetro digitale per misurare con precisione la tensione sia in ingresso che in uscita. Adesso faremo due test differenti, il test di step down e il test di step up. Cominciamo col primo. Allora, innanzitutto colleghiamo l'alimentatore da 19 V all'ingresso del modulo e impostiamo la tensione di uscita a 5 V tramite il potenziometro. Quindi in questo caso forniamo in uscita una tensione più bassa rispetto a quella di ingresso. Poi verifico la stabilità della tensione in uscita con il multimetro e monitoro il display LCD del modulo per confrontare i valori. Tutto questo lo facciamo sotto carico, quindi applicherò un carico nel carico elettronico e misurerò eventuali variazioni di tensione. Siamo adesso al test di step up. Stavolta imposto una tensione in uscita superiore rispetto a quella dell'alimentatore. Ad esempio impostiamo 24 V mantenendo l'ingresso a 19 V. Verifico quindi la capacità del modulo di aumentare la tensione mantenendo la corrente entro il limite dei 3 A. Quindi applico un carico crescente e monitoro la capacità del modulo di mantenere stabile la tensione. Durante questi test è importante verificare due cose. Intanto, come prima cosa, quanto il modulo riesce a mantenere la tensione costante e regolabile anche sotto carico e quanto sia efficiente nel dissipare il calore durante l'uso prolungato. Poi posso testare anche i limiti del modulo sia in configurazione step down che step up per valutare se si adatta alle applicazioni tipiche di un obbista. Questo test metterà in luce la capacità del modulo di regolare tensione in modo preciso e sicuro dimostrando la sua utilità. Quindi per chi cerca un alimentatore versatile per il proprio laboratorio questo potrebbe essere un valido candidato. Quindi dopo aver testato il modulo di Cdc possiamo ottrare alcune conclusioni importanti. Allora, come pro abbiamo la versatilità cioè la possibilità di regolare la tensione sia in aumento che in diminuzione e questo lo rende estremamente flessibile. Abbiamo il prezzo molto contenuto, circa 9 euro. Questo modulo infatti offre molte funzionalità avanzate soprattutto considerato soprattutto considerando il display integrato. E poi c'è la precisione. È ottimo per applicazioni che richiedono un controllo accurato di tensione e corrente come nei piccoli progetti elettronici. A incontro abbiamo i limiti di potenza infatti il carico massimo è di 35 watt il modulo è quindi non è adatto a carichi pesanti o applicazioni industriali. E poi c'è la richiesta di dissipazione quando è utilizzato a piena carico la gestione del calore potrebbe diventare un problema specialmente per tempi prolungati. Quindi per chi è adatto questo modulo questo modulo è adatto per obbisti, maker e piccoli progettisti che cercano un alimentatore regolabile per testare i propri circuiti e dispositivi e anche un'ottica soluzione per dare nuova vita a vecchi alimentatori trasformandoli in strumenti utili per il laboratorio. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video spero che questa presentazione e test del modulo DC-DC Step Up e Down vi sia piaciuta e vi abbia ispirato per i vostri prossimi progetti. Un ringraziamento speciale a tutti quelli che hanno seguito fino a qui e se siete nuovi su Electronica e CNC Lab non dimenticate di salire a bordo iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video della rubrica dalla Cina con furore. Per il prossimo episodio vedremo come questo modulino che abbiamo testato oggi si trasformerà in un prodotto affinito in scatolato pronto per l'uso. E se non volete perdervelo ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon divertimento!